Buongiorno, oggi a proposito di nuovo Caffè Italia parleremo del libro digitale e della piattaforma Bsmart che lo ospita. Nello specifico andremo a vedere proprio come ci si scrive, come si entra in questa piattaforma, come si scarica e si può utilizzare il libro digitale e poi come possiamo utilizzare i materiali digitali anche per attività di didattica a distanza. Ebbene, quando io entro nel mio Bsmart, io sono già iscritto, quindi mi saluta Ciao Angelo, ma voi per poter utilizzare tutte le risorse della piattaforma dovrete, visitando la pagina www.bsmart.it, creare un account e attendere la conferma e-mail. Una volta che il vostro account Bsmart è funzionante, vi troverete davanti i libri che avete già acquistato e attivato. Se qualche libro manca da questa libreria è perché probabilmente non l'avete ancora attivato. Ebbene, basta visitare la pagina della elionline.com activate, inserire il codice che troverete nel libro, nelle prime pagine o nelle ultime pagine, dipende dal volume, e in pochissimi secondi quel libro farà parte della vostra libreria digitale Bsmart. A quel punto, se avrete bisogno di qualche aiuto in queste operazioni, sul sito Eli trovate una serie di video tutorial che vi possono aiutare in tutti i vari passaggi dell'attivazione. Se non volete utilizzare il libro nel vostro computer, potete utilizzarlo con tablet, con cellulare, scaricando l'app per iOS o per Android, dai vari store, e chiaramente una volta scaricato il libro, quel libro è utilizzabile anche offline sempre. Non avete limiti di tempo. Quando entrate nell'app o nel sito vi troverete davanti il libro con tantissime delle attività digitalizzate pronte per essere utilizzate o anche per chiedere ai vostri studenti di utilizzarle come compito a casa, ad esempio, perché sono autovalutabili. Quindi se io dovessi aprire per esempio uno di questi esercizi, che parla delle nazionalità, gli abitanti del Marocco, marocchini, corretta, l'immagine, la risposta si colora di verde come anche albanesi. Se la risposta non fosse corretta, io ho scritto che gli abitanti della Cina sono i Cini, vedete il colore rosso, potete però cambiarla e così avremo di nuovo il nostro colore verde che ci dice che la risposta è corretta. Portiamo avanti l'esercizio, in questo caso sono cinque domande, alla fine possiamo valutare o anche se vogliamo azzerare l'esercizio e ricominciarlo. Quindi è un sistema molto pratico e molto semplice da utilizzare. Quando noi entriamo nel libro digitale, la prima cosa ovviamente che vediamo è la copertina, ci sono poi una serie di informazioni sul libro stesso, l'indice e poi si va direttamente all'interno del libro. Ma non troverete solo il libro, perché troverete la possibilità di scaricare tutte le attività dell'eserciziario, del libro e anche le attività extra e potete decidere anche di scaricare e poi cancellare, però non occupare troppo spazio nei vostri tablet. Sappiamo che lo spazio finisce sempre, quindi in questo caso si può scegliere attività per attività, cosa mantenere e cosa avere. Benissimo, dal punto di vista degli esercizi digitalizzati ce ne sono tantissimi, anche nella parte dell'eserciziario. Quindi quando noi apriamo l'eserciziario, in questo caso io vi faccio vedere come prima un altro esercizio, si può scrivere la risposta e il programma e la piattaforma Bsmart valutano se la risposta è corretta col colore verde, ce lo fanno evidenziare. Se la risposta non fosse corretta, come io ho messo che il plurale di la chiave è le chiave, vedrete il colore rosso e poi potrete correggere e rifare. Benissimo, dal punto di vista delle inclusioni e anche della didattica a distanza, ad esempio, vengono inclusi degli esercizi extra di CAUT, voi aprirete la pagina di CAUT, ci sono una serie di esercizi già pronti che voi potrete fare con i vostri studenti anche a distanza, sono molto simpatici e molto divertenti, quindi assegnando l'esercizio con un codice si può giocare a distanza, quindi il libro si apre alla didattica a distanza. Grazie mille per l'attenzione, vi consiglio di seguirci su Facebook nella pagina Eli Italiano Lingua Straniera e alla prossima!